Si avvicinano a grandi passi le elezioni regionali del prossimo 26 maggio e come sempre noi vogliamo capire innanzitutto con i consiglieri uscenti che Piemonte viene lasciato. Cosa è stato fatto in questi anni? Siamo con il consigliere Vittorio Barazzotto, Partito Democratico, benvenuto consigliere e tra l'altro lo ricordiamo presidente della commissione bilancio. Quindi anche una commissione pesante, parliamo di conti e lo faremo. Ma iniziamo con una domanda che penso stia a cuore ai piemontesi. Il Piemonte del 2019 dopo 5 anni di amministrazione Chiamparino, che tipo di Piemonte è? È un Piemonte, l'abbiamo trovato disastrato, se fosse stata un'azienda sarebbe fallita. Abbiamo riportato in conti in ordine, Chiamparino è stato eletto commissario straordinario. Il primo anno è stato un anno veramente molto difficile, difficilissimo, si temeva il peggio e siamo riusciti a riportare i conti in ordine, a dare serietà ad un bilancio, dare credibilità e soprattutto siamo riusciti a garantire i servizi senza aumentare la pressione fiscale, senza toccare e incidere nelle tasche dei contribuenti. E nonostante sia stato il lustro peggiore dal punto di vista economico-finanziario nella storia del Piemonte, abbiamo appunto, come dicevo, ridato credibilità, riportato una sanità a onore del vero e che oggi è apprezzata, e lo dice lo stesso Ministero della Salute, come una se non la migliore in Italia e soprattutto un Piemonte che è riuscito a utilizzare i fondi europei e siamo tra le regioni che hanno utilizzato in modo migliore i fondi europei, questo lo dico per chi è sceltico nei confronti dell'Europa, se non avessimo avuto un'Europa vicina non avremmo potuto investire questi soldi né nel manufattiero e neppure nell'agricoltura. Ed è un Piemonte che ha saputo guardare anche i giovani, non solo riempirsi la bocca, sia per quanto riguarda la formazione, sia per garantire loro anche la possibilità di studiare, raddoppiando quelle che sono le borse di studio e così altre iniziative. Ed è un Piemonte soprattutto che deve guardare al futuro. Come si guarda al futuro? Si guarda al futuro per evitare che il Piemonte sia un qualcosa in alta sinistra. Io ricordo solo che oggi i collegamenti con la Francia sono col Fregeus, come tutti ricorderanno di Cavour Memoria e soprattutto basta un niente che il Fregeus venga interrotto. Gli altri passaggi su Goma e il Monte Bianco che fra poco verrà fermato per due anni per manutenzione, quindi sotto questo aspetto la città non diventa più un problema se sì, se no, diventa un problema per il Piemonte se non viene fatto. Lo stesso professore che ha fatto gli studi dice che serve solo il Piemonte, tanto non è vero che serve solo il Piemonte, è indispensabile, è fondamentale se noi vogliamo aprirci e collegarci alle grandi linee, ai grandi collegamenti. Quindi non è un vezzo, non è una moda, non è solo un indotto che genera tantissimi posti di lavoro, è indispensabile, è fondamentale per far sì che il Piemonte possa rilanciarsi e possa aprirsi l'Europa e non chiudersi in se stesso decretando la sua fine. Ecco, quindi è implicito che la priorità sia quella delle infrastrutture. Io vorrei andare con lei ora a toccare quello che è il suo territorio di competenza. Parliamo del Biellese, una zona che ha particolarmente bisogno di collegamenti, una zona che guarda verso Lombardia, guarda verso il Piemonte, una zona anche se vogliamo strategica se ben collegata. Ecco, per il Biellese cosa è stato fatto e cosa chiedono i biellesi in questo momento alla Regione? I biellesi avevano un mandato molto preciso che io ho cercato di interpretare e applicare e in modestamento, modestamente fate vobis, ho cercato di raggiungere grazie ad una giunta e grazie anche ad una maggioranza coese. Il problema principale del Biellese è l'isolamento atavico. Ha tante responsabilità perché ha perso, ma lasciamo perdere il passato. Quello che è che siamo riusciti con questa amministrazione a realizzare, a finanziare un progetto autostradale, la cosiddetta Pedemontina, che ci consente di andare, sia di guardare verso la Lombardia che verso la Svizzera. Questo progetto è finanziato, attende adesso al Ministero, può essere tranquillamente messo in opera. C'è ancora qualche procedura burocratica, ma ha passato le tantissime step burocratici che in questo paese abbiamo. Abbiamo un problema di collegamento autostradale, la Biela Santia è stato fatto un progetto di elettrificazione finanziato all'interno, da parte del Comune, la provincia e le fondazioni. Terminato? Questo è terminato, poteva già partire da settembre. Anche qui ci aspettiamo dal Ministero che venga dato la paletta verde più presto in modo che i bielesi possano giungere a Torino nel minor tempo possibile attraverso Santia e anche a Milano. Rimane il collegamento fondamentale verso Milano, qui c'è un problema nell'entrata a Milano, ma il prossimo obiettivo è quello di finanziare un progetto al fine di poter arrivare il più velocemente possibile alle porte Milano, condizione per noi indispensabile. Quindi il problema di infrastrutture per il bielese è fondamentale e ne determina la sua sopravvivenza. Oggi abbiamo una caduta per quanto riguarda gli immobili, che ahimè valgono pochissimo, ma è un territorio che è in grado di accogliere tantissime persone in quanto ha servizi, voglio dire, innumerevoli sotto ogni aspetto. Ci mancano questi collegamenti. E quindi credo che il mio compito o compitino di averlo assolto, grazie, voglio dire, a questa maggioranza. Ecco, ricordiamo che il bielese è anche una zona fortemente evocata, il manifatturiero, ricordiamo il tessile, che è un po' il fiore all'occhiello, è o era, chiedo a lei, consigliere Barazzotto, a che punto siamo adesso. Ecco, come rilanciare anche un'economia così mirata, se vogliamo, però così importante? Allora, intanto il bielese deve ritrovare un po' di orgoglio, cosa che l'ha sempre tenuto un po' celato. Il bielese ha avuto, come tante altre situazioni, come tante altre distretti industriali, una caduta molto... La crisi si è sentita forte. Sì, una crisi molto forte. E dato che tutto, se non quasi tutto, si basava sul tessile, questo ha inciso moltissimo, ha inciso nella fiducia, ha inciso nell'economia, ha inciso in tanti aspetti. Oggi com'è la situazione? Completamente modificata rispetto al passato, sopravvivono alcune imprese che sono una nicchia, ma molto elevata, di grandissima qualità e che servono i più grandi stilisti del mondo. C'è una ripresa sotto quell'aspetto per quanto riguarda l'esportazione, ci sono delle flessioni per quanto riguarda i mercati esempio asiatici, ma c'è una ripresa. Allora, è chiaro che è un momento di grandissima trasformazione. Ricordo però che è uno, se forse in Europa, l'unico distretto industriale tessile rimasto in vita. Se pensiamo alla Francia, al Belgio e all'Inghilterra, sono quasi tutti decaduti. Quindi dobbiamo difendere questa qualità, c'è anche l'ingegneria tessile, e cercare di valorizzare il più possibile affinché il mondo, voglio dire, in un mondo globalizzato, si renda conto e si accorga, ma soprattutto noi dobbiamo far sì che ci si accorga, che c'è anche una grande trasformazione nel settore agroalimentare, nel turismo siamo molto neofiti. Il turismo religioso è fondamentale, difatti su Europa si è investito moltissimo, uno dei santuari mariani non solo importanti in Italia, è uno dei più importanti in Europa, che sia per i fedeli ha un grandissimo valore dal punto di vista spirituale, ma anche per i laici e per tutti, è un punto di attrazione turistica elevatissima ed è quello che dà il maggior numero di affluenza nel bellese. La regione sotto questo aspetto ha investito tantissimi soldi, si è fatto interprete a Chiamparino con le fondazioni per raggiungere la cifra di 2 milioni e mezzo, che serve a ricostruire, a ristrutturare la nuova basilica in attesa dell'evento del prossimo anno, che sarà la quinta incoronazione della Madonna, che porterà tantissime persone. Se tornaste a sedere tra i banchi del Consiglio regionale, consigliere Barazzotto, quale sarebbe la prima proposta, la prima idea che le verrebbe in mente per il Piemonte? Per i biellesi sicuramente completare i progetti ferroviari e far sì che non ci siano ulteriori ritardi e quindi portare a termine i progetti ferroviari e anche autostradali. Questo per quanto riguarda i biellesi. Per quanto riguarda il Piemonte, dar via agli sbocchi, perché noi, come dicevo in apertura, dobbiamo assolutamente aprirci verso l'esterno, perché una regione chiusa, un territorio chiuso, non ha sbocchi, non ha ossigeno, e soprattutto cercare di sburocratizzare il più possibile, perché è vero che si ha difficoltà a reperire i capitali, ma credo che le idee non mancano, ma soltanto vengono frustrate da questa macchina generale italiana, ma anche in parte europea, ma pensiamo all'Italia, pensiamo a quello che possiamo fare noi come regione, a semplificare il più possibile le procedure. Qualcosa è stato fatto, ma molto è stato fatto. Cioè, lo Stato e la regione devono essere amici dei contribuenti e dei cittadini, non devono essere un ulteriore problema. I miei problemi già li abbiamo a livello mondiale, noi a livello territoriale dobbiamo semplificare. Quindi il mio lavoro sarebbe soprattutto quello di prendere queste leggi, spaccare, spacchettarle e renderle più semplici e possibili, sia per i giovani e soprattutto rimettere le persone che hanno perso il lavoro, corsi di formazione, per dar loro delle opportunità di inserimento. Bene, grazie, buona campagna elettorale al consigliere Vittorio Barazzotto, ve lo ricordo partito democratico, zona del Biellese. Provincia di Biello, tutti i comuni del Provincia di Biello possono votare. Benissimo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.